Tag, potresti tenermi questa? Cos'è sta cosa? Damage 500 a Isaac Cos'è un regalo da Isaac? Grazie Tag Ciao Ciao Ma io pensavo che mi avreste ammazzato Isaac, che stai facendo? Sono Gargamella Devo raccogliere i puffi Isaac, che cazzo sei? Sono Gargamella Non venire qui, stammi lontano, stammi lontano Dove sono i puffi? Ho creato puffetta, mi devi ringraziare Tu, non meriti più di vivere, non sei Isaac, che conosco Buonasera, dai Adesso diventi Duke Pool No, come Duke Pool Sì, hell yeah Basta Andiamo, dai, andiamo Salve amici il loro stack, qui c'è il 9 e per questo nuovo video Oggi ragazzi siamo qui, questo nuovo video di Gary's Mod L'ottavo No, no, mi ammazzato Ragazzi, siamo qui, questo nuovo video con il nuovo kit di armi che avete visto nello scorso episodio Non tocco più la cassa, ok Questa ragazzi è una componente dei nuovi addons che di sotto è traslucida Ragazzi Tag, lo metto a posto io, tranquillo, tranquillo Tu guarda la telecamera Abbiamo introdotto questo Isaac Tag Critical Dunque, siamo qui in questo nuovo episodio per fare due o tre cavolate come sempre Critical E in questo nuovo episodio vi mostreremo i nuovi addons Fra cui armi nuove, velicolini Ah, mi ha esportato un proiettile, l'ho visto all'ultimo momento No, non è vero Sì, che è vero Non è un minu E nel nuovo episodio vi mostreremo innanzitutto il nuovo kit di addons Che sto riprendendo sempre la stessa cosa? Boh, non lo so, perché sei confuso O così confuso da colpirti da solo Oggi abbiamo introdotto un nuovo kit di addons E questo kit di addons si chiama Extra Pack Per me un attimo Queste due cose cosa sembrano? Dunque, il nuovo kit di addons che abbiamo introdotto oggi si chiama Customizable Weapon Praticato è fantastico perché Sì, possono essere modificati con i caricatori a tamburo Doffi che avete visto prima che tag pensavo Ma non è vero Perché si è esplosa la cassa? Non lo so, fa un c***o il senso E poi la ricarica Vedete come tengo bene le armi sulle mani, no? Vedete che Comunque ragazzi, stavo dicendo Queste armi hanno una possibilità di essere modificate E di poter aggiungere degli oggetti aggiuntivi Come per esempio Possiamo aggiungere dei fighissimi mirini Questo, questo, questo Aspetta telecamera che sto arrivando Ok, eccomi Allora, stavo dicendo Prendiamo in considerazione un M4A1 come fucile Non ha Isaac adesso Isaac no No C'è la bomba che sta Fattene Se per esempio Se prendiamo come un fucile da cecchino Questo fucile da cecchino Molto bello Che così sembra una cagata Se premiamo C Abbiamo la possibilità di poterlo modificare Per esempio Gli mettiamo il mirino per cecchinare Il calcio E poi anche il laser Con questo potremo ammazzare Isaac allegramente Mentre fa il coglione Perché disturbi gli esemplari di Isaac in solitudine? Come vedete ragazzi Queste armi sono davvero belle Personalizzabili E le useremo nei corsi di prossimi video Al posto di quelle là che abbiamo trovato Che sono anche pur sempre belle Che le consiglio perché è un pc leggermente meno potente Infatti con queste si può ammazzare Isaac tranquillamente con calma Ed avere più godimento di quando lo si uccide Perché se no Che stai facendo Isaac? Eh sto cercando di fare No! Sono diventato Chuck Norris all'improvviso Nemmeno con quella nucleare Non puoi farmi niente Isaac È sicuro Chuck? Sicuro di quello che hai detto? Sì? Proprio al cento per cento? Sì al cento per cento Prova No! Lo sai che sono Dio e padre eterno qui sopra eh? Però posso fare questo Cosa? Virus C all'attacco Mi hai smirciato Date delle lezioni di lancio a quel povero No un laser mi sta passando accanto Chissà cosa vuole da me E sto morto io Non posso morire Sii... Allora ragazzi, cominciamo a leggere qualche vostro commento Allora ragazzi, eccoci qui Abbiamo selezionato qualche commento al volo Per adesso uno Perché ragazzi dal... Dall'ultima volta abbiamo deciso che... Ragazzi, nel frattempo che io sto volando senza alcun senso Perché Isaac con i suoi poteri psichici mi sta sollevando perché l'ho fatto incazzare Abbiamo selezionato il vostro commento Uno dei primi commenti Questo commento dice Create una sfera Genkidama E lanciatela contro Isaac Isaac cosa ne pensi? Provaci Au Io sono Majin Io sono Majin Bu Quanto sei piccolo Ciao Io sono Tagful E ti ucciderò Per salvare la terra Vai Sfera E così L'umanità fu salvata Per la tredicesima volta E non sense Ma non ha importanza Ciao Tagful Cosa? Ciao Sei un morto viola Morto Badge Jumping Badge 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 Jumping Badge Jumping Vai Oh mio Dio Ma che cazzo Levati Oh mio Dio Come è bugato Oh mio Dio Ma che cazzo Che cosa cazzo succede Paghi Sii Isaac che ci fai là? Eh niente Stavo andando Ciao Isaac Mi sono incasinato Ciao Isaac Che ci fai Buonasera Cosa? No la sedia un attimo Devo spostarla No perché mi hai incasinato Da prima Eh scusami Eh facciamo così Te crei la mia sedia Crea la mia sedia Io adesso C'è come fare? Basta mettere una corda Ok Metti una corda E poi per farla ritornare Come facciamo? Tranquillo ci penso Però fai un'altra sedia Perché così almeno Non abbiamo problemi Di doverne fare due Aspetta Faccio una bellissima duplicazione Perché così di sicuro Avrai il mio stesso divertimento No 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 Chissà perché Non vuoi E perché stavrà volando In questo modo Così dritto Sai cosa? Siccome ti voglio bene E ti faccio il seggiolone Da grande Che si infila Oh mio dio Che succede? Ma che cazzo succede? Ma perché provo Bagi jumping? Ce l'ha consigliato qualcuno Sì infatti Te non vedi Un caspio Tu Cosa hai visto? Cosa hai visto? Dimmi cosa hai visto? Ho visto tipo Un elastico Elasticoso Bravo Che cadeva a terra Bene Adesso li portiamo Lì su E diciamo Verso l'infite e oltre Va bene? Stranamente Questo è così Non ci fare caso Isaac Se si gira così Non è perché c'è un peso di dietro È colpa dell'elastico Cinese? Sì è cinese Guarda guarda è tutto normale Come vedi Non vedi Che Sapevo volare Isaac Sto arrivando con il mio elicotterino Molto figo Un secondo Un secondo eh Solo un secondo Giusto Perché parte il motore Che Non so quanto ci mette Merda Merda Parti 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 Lancia 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 Mi Aspetta Come No 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 Fermo Lancia prima me Poi io lancio te Facciamo uno alla volta Perché non è possibile Fare contemporaneamente No tag Allora Che bello Sicuro che sia tutto a posto Stai ballando Qualcosa Aspetta Perché Porca mia Tiralo tag Tiralo Tiralo Oh Vai nella tua casetta Ciao tag Ciao 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 Ma no Non posso cadere Un'altra volta Si Adesso ti faccio il culo Che cavolo sta facendo Il signor Adesso ti faccio il culo Isaac Non hai nessun modo Per battermi con un'arma Assicuro tag Vuoi vedere Che anche io Riuscirò a batterti E come Sentiamo Come si chiama quel cosa Boh non so qualcosa Qualche cagata Giapponese Eh 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 Junt Eh 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 Taglio Crash del giorno Tu Tag Sei Maleditto Ciao Ciao Aaaaaah Isaac Eh dica Allora Mi fai Devi farmi un favore Fai di nuovo La bomba cinese Ok Facciamo di nuovo La bomba cinese Però prima No Sparta No Tu Allora Non posso Farai Ironman Scusa Non mi copiare Tu Un tu Tu Ancora Ovviamente ho provato Che è impossibile Ammazzare Isaac Con la Spartan No E per attacca Matteo Migno Che dice Fate il gioco Della sedia Questa è la sedia Adesso manca La musica Che prendiamo Appena inizio Devi andare a prendere La sedia Mo capirei Perché Mamma mia Come ti sei collato Sulla sedia È fantastico Sì Penso che sia Scientificamente provato Che è impossibile Fare il gioco Della sedia In due Esatto Prossimo commento Uccidi Isaac In cinque modi Diversi Isaac Con due C Comunque L'hai già fatto No E così Parte la Top five Per ammazzare Isaac Ma anche no Ammazzare Isaac Mentre porta Un materasso E lanciare Il suo malefico Avversario Isaac Una blockable Aia Ho fatto male Ho preso un colpo Ciao Ha usato splash Vero? Sì Ok Per raggio No Isaac 2 No Io ho usato Per raggio No 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 Usare un falcon punch Su Isaac Usare l'addons di Iron Man Mentre Isaac Non se lo aspetta In che senso Addons di Iron Man Utilizzare la sua arma preferita L'arpione No Che è arpione? Comunque vado Ciao Utilizzare un rallenti molto figo Contro Isaac E c'è non usare il rally Lo riesco ad ammazzarti Non ci credo Ma io non ti tolgo vita Ma io non ti tolgo vita Sei mortale Ammazzare Isaac Con il minigun Allora Quello lo stanno a fare tutto Nel prossimo video Costruite Che cazzo Come cazzo sto leggendo? Nel prossimo video Costruite un ring E picchiatevi Mettete pedo bear Dentro un cesso E parallelo Via grazie Cosa? Isaac Ti prenderò al volo Tranquillo Credevi un rifugio E poi c'è caso Poi la bomba nucleare Capito? Si Ci sono Vieni Quella a casa rossa E vicino Prendiamo l'elicottero Dai Isaac Un aggiornamento Del nuovo kit di Adams Sono le Come si cazzo? Eeeh E' inciampato Dicevi scusa? E così Se è semplicemente Bloccata La registrazione Del mio computer Per il semplice motivo Che i frame registrati Erano meno di 10 Quindi era inguardabile Allora ragazzi Ho deciso di fare Questa parte finale Dove Già che c'ero Volevo ringraziarvi Per il periodo Di grandissimo successo Che ci starò offrendo Su questa fantastica serie Di Gary's Mod Che davvero sta facendo L'ira di Dio Di solidizzazioni Di commenti Di mi piace E di condivisioni Che noto ogni volta Dalle analisi di Youtube E quindi Grazie Grazie Comunque Ragazzi Per concludere Faccio sempre Dico sempre La stessa cosa Che diciamo Io era Isaac Non c'è Isaac Perché lui Sta là con il raffreddore Come un idiota Ma vabbè Ragazzi Mettetevi piace Consigliateci Cosa fare Al prossimo episodio E che vi posso dire Da TACQ19 È tutto Insieme ad Isaac Ciao a tutti Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Ciao a tutti